Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube sulla mia pagina Facebook. Oggi faccio un video, nonostante io mi occupi di calisteniche e di street lifting, sapete che io negli ultimi anni ho comunque integrato un po' anche il lavoro per l'estetica. Un po' perché mi alleno a corpo libero dal 2015, scusate, dal 2005, anzi forse prima, perché ho iniziato in prima superiore, e quindi sono passati un po' di anni. Quindi avevo 15 anni, quest'anno ne faccio 36, sono passati un po' di anni. Quindi bisogna a volte anche dare stimoli nuovi, però senza mai cambiare completamente partito. Quindi una cosa che mi è stata chiesta è, ma è veramente necessario, secondo te, visto che io li faccio, allenare i grossi big per fare ipertrofia? Ora, io ho fatto l'ultimo anno e mezzo un off-season e ho cercato insieme ad Angelo di costruire qualcosina e gli effetti positivi ci sono stati, sono stati utilizzati dei fondamentali, i miglioramenti ci sono stati. Ora, quello che vi dico io è la mia visione che comunque si avvicina all'idea di lavoro che ha Angelo. Quindi io sono dell'idea, perché l'ho sperimentato su me stesso, che ogni esercizio fondamentale condivide qualcosa sui fratelli minori. Quindi, ho una panca, la panca condivide qualcosa con la panca con i manubri. La panca condivide qualcosa con la panca inclinata, ho una panca al multipanico, ho una chest press. Le trazioni condividono qualcosa con la lat machine, ok? Un rematore pesante condivide qualcosa con un pulley, con un rematore ad un braccio. Uno squat, con una certa linea, condividerà qualcosa con gli squat bulgari, condividerà qualcosa con una pressa, con una squat, e via dicendo. È ovvio che tanto più i fratelli minori sono a corpo libero, quindi squat bulgaro, tanto più facilmente è ovvio che ci sarà un transfert di abilità di tipo coordinativo. Ora, ci sarà sempre il partito di quelli che non lavorano con i fondamentali. Io vi dico quello che penso io e vi do anche una giustificazione, secondo me, ed è perché vale anche la pena impararli bene. I fondamentali insegnano delle traiettorie, delle linee di spinta. Linee di spinta sulle quali, sviluppando una certa abilità nel sollevare carichi pesanti, io sarò poi in grado di aumentare i carichi sui fratelli minori. E se poi la tensione meccanica è una delle componenti fondamentali, aumentare i carichi un po' dappertutto ci sta. Ovviamente ci sarà sempre, ripeto, perché l'ho conosciuto, per esempio Marcello del Fito, che secondo me, ripeto, è una persona estremamente intelligente e le sue idee poi danno dei risultati. Andatevi a vedere la sua pagina, ci sarà un corso con Angelo a fine maggio. Non so se questo video uscirà prima, non ne ho la più palida idea, potrebbe uscire anche dopo. Comunque, vi dicevo, ci sarà sempre chi ha ripetizioni altissime e carico basso. Quindi dici, questa persona qua non ha bisogno di aumentare in modo smisurato la forza sui fondamentali. E in parte è vero, e qui c'è un po' capire se la verità sta nel mezzo, cioè se io devo tenere volumi altissimi e carico basso, oppure fare volumi un po' più basso e carichi più alto. Alla fin fine, magari il tonnellaggio è lo stesso, solo che da un punto di vista di economicità, proprio del tempo, dell'allenamento, andare ad aumentare il carico e fare qualche ripetizione in meno, magari potrebbe essere più conveniente alla persona comune. Dall'altra parte dico, una cosa che può farti migliorare è una cosa che invece non hai mai fatto, quindi sei sempre stato nel range 8-10, provando nel range 20-25 o anche di più. Quello che però è il succo del discorso è che imparare le linee di spinta su dei reciti fondamentali ti può aiutare sui fratelli minori, che molto spesso i fratelli minori sono quelli che ti danno magari la specializzazione dove tendi a farci magari un pochino più di volume di lavoro perché a livello articolare sono un pochino meno stressanti. Quindi andare a migliorare sui fondamentali può essere una buona idea per trasferire poi delle abilità coordinative negli esercizi più semplici, ok? E questa è la prima cosa. Poi è ovvio che i fondamentali vanno fatti con un po' di criterio e qui c'è un concetto secondo me su cui Angelo rimarca sempre e io ho capito nel tempo il perché di questa cosa. Cioè quando tu vai in CAT e utilizzi gli esercizi della forza magari in autoregolato per mantenere la massa magra, per ottenere quindi il massimo reclutamento a certa intensità che può essere per esempio l'80%, se tu vuoi mantenere il muscolo che hai guadagnato dovrai cercare di utilizzare quelle linee di lavoro che ti permettono di reclutarlo e qua non ci piove. Se il fondamentale che io ho imparato prima però ha delle linee sbagliate io imparerò a mantenere, il mio corpo manterrà tutto ciò che io vado ad attivare con le linee sbagliate. Quindi devo mantenere la coscia ma faccio uno squat che è troppo catena posteriore? Quello che succede è che quando vado in CAT i quadricipiti non li mantengo. Magari vado a mantenere molto di più il culo e vado a mantenere molto di più la schiena. Questo è un esempio. Faccio una panca e però quando faccio la panca chiudo molto i gomiti. Magari manterrò di più i tricipiti e le spalle. E il pettorale? Il pettorale magari rischierò un pochino di perderlo. Dopo è ovvio che non ci sono studi che parlano di questa cosa qua. Ma è solamente un ragionamento logico. E la stessa cosa ragazzi miei si può applicare su tutto. Parliamo degli esercizi più a corpo libero che sono quelli che mi riguardano un po' di più. Se io decido di fare le trazioni ma durante le trazioni se tutto è chiuso io manterrò moltissimo i bicipiti. Andrò a mantenere moltissimo i rotondi probabilmente. Magari il dorso no. Perché il dorso se io tiro così non è una condizione di vantaggio meccanico per essere attivato. Sì un po' si attiva ma non è come magari aprire il petto e cercare di salire così. Quindi in quel caso sì vado a fare dei lavori di forza di mantenimento vado a mantenere principalmente le braccia o altro. Piegamenti in verticale. Piegamenti in verticale sono ottimi per lavorare sulle spalle. Il problema qual è? E' che se quando io vado giù mi apro. Quando sono qua più i flasci clavicolari del petto. In generale comunque il pettorale meno le spalle. Se invece cerco di tenere più una postura neutra ecco che magari scarico il petto riesco a mantenere maggiormente le spalle. Quindi imparare le linee di spinta è utile soprattutto quando mi trovo anche nella fase di cut. Che devo utilizzare quelle linee per mantenere quello che sono riuscito a costruire. Questo è un po' quello che ho capito dopo diversi anni in questo ambiente. Che uno potrebbe dire vabbè da quanto ti aleni per queste cose. Ormai l'anno prossimo entriamo nel sesto anno quindi non è da poco che lo faccio. E alcune cose credo che si raggiungano solamente con il tempo ragionandoci sopra capendo quello che è stato fatto confrontandosi chiedendo un'altra motivazione. Cioè l'importante è capire perché una cosa la fai. Perché c'è Alberto Gattiboni che mi ha detto una cosa interessante un giorno. Quando tu fai qualcosa che è diverso dall'ordinario se mi sai dare una motivazione allora potenzialmente è una cosa giusta. Se non me la sai dare allora è un errore. Ciao ragazzi ci vediamo al prossimo video.